Un bel ricordo io ce l'avevo, solo che purtroppo diciamo che oggi è scomparso ed era quel vecchio porticciolo di bandita dove c'erano quegli scogli che si vedevano e che facevano fronte del porticciolo, ma sono dei luoghi che sono ancorati alla mia fanciullezza perché parliamo di molti, molti anni fa. Poi per esempio, diciamo che io abitai sempre nella costa perché andandomene da bandita andai ad abitare in via Lamedo d'Aosta che dava sui bagni petrucci, virzì quindi alla costa c'ero attaccato, per tanto tempo diciamo che ho seguito pure diverse riunioni per quanto si parlava di progetto della costa, se vi ricordate, vecchio progetto Orlando e compagna varia progetti che poi alla fine sono sfumati tutti per un motivo o per l'altro.